La produzione industriale deve affrontare sfide sempre più importanti. I cicli di vita dei prodotti si accorciano, i costi e la pressione competitiva aumentano. Vodafone Automotive può vantare oltre 40 anni di esperienza nel settore della sicurezza e della telematica. Forniamo unità telematiche, sistemi di assistenza al parcheggio e sistemi antifurti a partner e clienti dislocati in tutto il mondo, incluse case automobilistiche, compagnie assicurative e flotte. Abbiamo anche relazioni stabili e importanti con molteplici partner aftermarket. Stiamo applicando i principi dell'industria 4.0 alla nostra azienda, rendendo i nostri stabilimenti più intelligenti, automatizzando le connessioni tra linee produttive, lo stoccaggio dei componenti e le attività di manutenzione per ridurre al minimo i tempi di fermo produzione. Tutti i nostri processi di design, sviluppo, prodotto e processo sono gestiti internamente dal nostro team ingegneristico per garantire l'elevata qualità, la sicurezza e le performance richieste dai nostri clienti. Tutte le funzionalità dei prodotti sono testate meticolosamente e certificate nei nostri laboratori. Lo scorso anno sono stati prodotti a Varese quasi 3 milioni di sistemi nel nostro sito produttivo e di stoccaggio di 2600 mq. Tutti i dispositivi e dei componenti elettronici sono tracciati automaticamente attraverso il process quality system. Indicatori di qualità e performance sono rivisti quotidianamente dai team engineering ed operation per garantire miglioramenti continui.